Grazie a tutti i livelli, a tantissimo livello e per creare la dimensione di pari all'opportunità. Noi come amistia ci troviamo, e scusate ragazzi, la nostra filosofia è sicuramente la salvazione dell'etica dello scuolo. La Stratta Italia, che rappresento, è stata un'attività di avere un mio compagno di scuola, che abbiamo fatto alla disabilità, che è riguardando soprattutto alle zone misaggiale, che hanno bisogno di sviluppo. Grazie a tutti i livelli, a tantissimo livello, che hanno bisogno di sviluppo. Grazie a tutti.